Sempre a Bologna i lavori per la 29esima fiera visitati dal sottosegretario De Cocci ci sono illustrati anche nelle prospettive future dal presidente onorevole Marchiani. Colgo volentieri l'occasione, data la presenza anche del sottosegretario dei lavori pubblici onorevole Danilo De Cocci, per confermare che questo grandioso quartiere sarà inaugurato l'8 maggio prossimo in occasione della 29esima fiera di Bologna. Fiera che presenterà le sue tradizionali rassegne dell'alimentazione, dell'agricoltura e dell'arredamento. Ed in particolare vorrei annunciare che nell'ottobre prossimo questo quartiere ospiterà il primo salone internazionale della prefabbricazione edilizia. Da tempo desideravo visitare personalmente questo quartiere fieristico e mi sono reso conto che si tratta veramente di uno dei più moderni d'Europa se non di tutto il mondo. L'onorevole De Cocci si è vivamente complimentato con i promotori.